Vedo che Giada abbia capito, sai perché c'è il ritorno di voce che arriva un po' più tardi? Ah sì, si offesa poi avrà capito Sì, si è molto parlato del tuo amore che non veniva Punto, punto, come va? Eh, diciamo che va bene Oh, è questo che ci va a piacere Come ti ha accolto? Gli sei piaciuta? Ti ha criticato in qualcosa? Sicuramente mi ha detto che nelle prime due settimane potevo risparmiarmi Ecco, però tu sei cambiata perché lì Allora Antonio vuoi essere bastonato se ci mettiamo in due No, all'inizio, all'inizio quando sei arrivato Meglio, l'hai capito, forse a tue spese, no? Certo, ma ringrazio Dio che l'ho capito dopo due settimane Il principale, infatti io ho votato Cristina inizialmente quindi non ho mantenuto vai così Povera Cristina, certo Per conoscessero di più, per andare a ospite da Michele Ovvio, innanzitutto dico che sono andata sull'isola, come hai detto tu, per acquistare più popolari Ma guarda che lui scherza Ma sto scherzando, ma come mai hai perso il senso dell'umorismo? Eri così simpatico No, è vero, questo è vero Allora, noi facciamo un grande bacio ad Antonio, più grande a Michele E Elena Alla nostra Elena, veramente vedrai che farei una gran carriera, me lo sento Grazie Te lo auguriamo davvero in cuore Ciao, complimenti e grazie